A voi che siete presenti, anche quelli che ci staranno seguendo da casa la diretta, quelli che poi vedranno la registrazione dei nostri canali YouTube o Facebook dove sarà poi pubblicato il video. Oggi parliamo di ONG, è un tema che come sapete ormai è da qualche anno che è al centro del dibattito politico italiano e internazionale. Fu portato al centro del dibattito da un governo non sospetto di ostilità ideologiche, vi ricorderete tutto il codice di condotta varato dal Ministro degli Interni Minniti, quindi la problematica creata dall'attività di alcune ONG nel Mediterraneo connesso ai flussi migratori è un problema ben noto già dal precedente governo che poi è stato affrontato anche dal presente con i risultati che tutti abbiamo potuto vedere in termini di drastica riduzione dei flussi che provengono dal Mediterraneo. Oggi presentiamo questo report, il cui autore Carlo Sacino è ben noto a tutti quelli che ci seguono perché credo sia ormai già il quarto report che scrive per il nostro centro studio di Machiavelli e siamo molto lieti che continuino a scrivere, vi ricorderete la sua analisi in particolare su Global Compact delle migrazioni, scritto quando ancora il tema non era entrato nel dibattito pubblico e che penso di poter dire anche abbia avuto un effettivo risvolto pratico poi per quelle che sono state le scelte prese a livello politico. Carlo Sacino ha scritto questo report che è dedicato alla questione della trasparenza del bilancio delle organizzazioni non governative. Lui ha fatto una panoramica su quelle che sono le normative presenti in alcuni paesi che le hanno aggiornate di recente e che possono essere entro una certa misura anche da modello per la normativa italiana, questa è l'analisi che lui ha compiuto nel suo testo. Prima però daremo la parola all'onorevole Igor Diezzi che ringrazio di essere qui perché poi è impegnato in aula e ci spiegherà un po' quella che è la prospettiva della Lega e quello che sta facendo il Governo in questo settore. Quello che sta facendo il Governo lo vedete, non credo che ci sia ulteriore bisogno di spiegazioni e devo dire noi siamo abbastanza soddisfatti perché i risultati stanno arrivando. Io vi chiedo scusa perché come sapete di là in aula si sta votando la TAV che è un argomento un po' delicato come capite diciamo anche all'interno della maggioranza e quindi tra un po' qualcuno mi chiamerà dicendo che devo andare a votare quindi se mi alzo è per quel motivo là. Io tra l'altro ho letto il dossier quindi sono preparato e vi ringrazio, ringrazio il centro studi e ringrazio chi ha fatto il dossier perché questo lavoro è utilissimo anche a noi parlamentari. Tra l'altro io leggendolo già dalle prime righe mi sono reso conto delle dimensioni del terzo settore. Noi spesso abbiamo chiesto, noi non abbiamo mai accusato il terzo settore perché il terzo settore fa un lavoro importantissimo sul territorio e lo fa tra l'altro a 360 gradi. Però c'è diciamo i campi di azione spesso abbiamo chiesto che ci fosse un riflettore puntato perché qualche dubbio ci lasciava. Questo perché? Perché il terzo settore è veramente una macchina enorme. ma appunto leggendo il dossier devo dirvi ancora grazie perché ci dà proprio la misura della dimensione del fenomeno di cui stiamo parlando. Se ho letto bene, se parliamo di una roba che vale 60 miliardi di euro, giusto? 680 mila addetti che quindi capite che è una macchina incredibile e quasi 5, 4,7 milioni di volontari che lavorano con queste associazioni. Ecco noi negli anni, soprattutto negli ultimi mesi, abbiamo avuto qualche confronto vivace mettiamola così con le ONG. Voi sapete che abbiamo iniziato ad attuare una politica nel Mediterraneo di contrasto all'immigrazione, una politica che ci sta dando risultati incredibili perché il numero degli immigrati è calato degli sbarchi, degli immigrati clandestini che entrano nel nostro paese è calato dell'80%. Siamo passati dal 2017 che ce n'erano più di 103 mila al 2018 che sono calati a 22 mila. Nel primo mese 20 giorni con i dati aggiornati al 20 febbraio nel 2017 ne sono arrivati 10 mila, nel 2018 5 mila e nel 2019 solo 229. Quindi vuol dire che la politica che noi stiamo attuando nel Mediterraneo è una politica che produce degli effetti e questa politica è fatta anche bloccando le ONG. Ecco le ONG, questo perché? Perché secondo noi le ONG rappresentano una sorta di calamita. Scusate se uso un linguaggio un po' semplicistico, non voglio offendere nessuno, però diciamo un qualsiasi immigrato clandestino che vede all'orizzonte una nave, voglio dire, ci va a nuoto pur di essere raccolto dalla nave. Adesso la metto in maniera un po' semplicistica, però è un dato di fatto che nel momento in cui si è interrotto il via vai delle navi gestite da ONG si è frenato lo sbarco dei clandestini. Queste ONG lavorano su due settori, su due fronti. Ci sono ONG che lavorano secondo me in maniera illecita, illecitamente. Questo ce lo dicono diverse procure che stanno indagando, per carità non c'è ancora nulla di... però stanno indagando, quindi diciamo c'è un'azione che le procure portano avanti. Noi a livello legislativo, io sono anche capogruppo della Lega nella Commissione Affari Costituzionali interni, quindi proprio quella che segue il Ministero di Salvini a livello parlamentare, possiamo fare qualcosa. Possiamo, per esempio, e questo è uno dei suggerimenti che ci viene dato, adesso non voglio togliere poi gli argomenti, però diciamo sul reatto associativo di favoreggiamento all'immigrazione clandestina, però poi questo ve ne parlerà lui, che non voglio certo togliere argomenti. E poi però ci sono anche associazioni ONG che lavorano lecitamente, ma che comunque nonostante ciò rappresentano un problema, perché fanno un lavoro che va in contrasto, diciamo, con l'interesse nazionale del nostro Paese. E anche su quelle, secondo me, grazie al lavoro che è stato fatto, devo dire un suggerimento che è stato fatto, si può lavorare. E mi riferisco in particolare, come dire, alla trasparenza dei finanziamenti che arrivano a questo tipo di associazioni. Adesso io non voglio, assolutamente, anche qui non mi trattengo più di tanto, perché non vorrei togliere argomenti e le conclusioni del dossier, però questa è la prova che l'ho letto, quantomeno, quindi diciamo l'ho letto con attenzione. Ecco, io adesso non voglio fare complottista, perché spesso si eccede nel complottismo, però quando appunto ho letto questa cosa qui, diciamo queste proposte, ho fatto una cosa semplicissima, sono andato sul sito della fondazione di Soros, perché è un nome che circola spesso, chi cita Soros di solito viene accusato di essere un complottista, però io l'ho fatto, io di solito non lo cito mai, però ho fatto questa cosa qui. E lui, in maniera abbastanza aperta e trasparenza, ci dice che nel 2017 ha finanziato con 2,1 milioni di euro 28 ONG sul nostro territorio e in Europa ha dato oltre mille milioni di dollari ad associazioni, ad ONG in Europa. È chiaro che, considerato anche i valori che l'associazione e la fondazione di Soros portano avanti, è chiaro che questo per noi rappresenta un problema, perché noi ne faremmo volentieri a meno di avere, diciamo, influenze di questo tipo di realtà all'interno del nostro Paese, perché voi potete capire che associazioni come quelle che poi gestiscono le navi del Mediterraneo spendono un sacco di quattini, perché portare una nave nel Mediterraneo non è cosa di poco costo, quindi muovono un sacco di soldi, ci deve essere qualcuno che li finanzi. Ecco, quindi, senza entrare nel complottismo, questa è stata una mia curiosità, quella di andare a digitare veloce veloce sul sito di Soros, però testimonia che il suggerimento che viene dato dal centro studi e da questo dossier, cioè quello di portare un po' di trasparenza e un po' di luce all'interno del meccanismo di questo tipo di realtà associative, è fondamentale, anche perché sono realtà spesso, quella di Soros è una, ma ce ne sarebbero anche altre, spesso straniere che hanno interessi confliggenti con quelli del nostro Paese e quindi non si può permettere. Noi abbiamo appena approvato una legge, che è la famosa legge anticorruzione, che prevede, che ha una parte, diciamo, indirizzata al finanziamento dei partiti e delle fondazioni che impedisce ai partiti e alle fondazioni, che impedisce il finanziamento, per esempio, da parte di persone giuridiche estere. Questo perché? Proprio perché si può correre il rischio di avere interessi confliggenti. Questa è una cosa sulla quale noi ragioneremo. ripeto, vi ringrazio, prendiamo questi suggerimenti, li facciamo nostri, spero di poter, insomma, nel proseguito delle attività collaborare, sentirci ancora, perché mi piacerebbe approfondire questi temi e fare in modo che magari, non so in che forma, lo vedremo, si possano tradurre in, come dire, in provvedimenti legislativi, perché c'è la necessità di agire su questi due fronti che voi indicate, secondo me, molto bene e con molte ragioni che qui nel dossier sono sviluppati, cioè quello della trasparenza del finanziamento a queste realtà e quello del reatto associativo di favoreggiamento all'immigrazione clandestina. Grazie onorevole, lasciamo andare a votare quando sarà. Prego, prego, no, ci mancherebbe. Intanto ha citato Soros, per fortuna non ce l'ha di Gruber nel pubblico, perché altrimenti la situazione sarebbe degenerata. mi ha fatto molto piacere comunque che sia stato riconosciuto anche il valore pratico di queste cose che pubblichiamo, del resto se ci chiamiamo Machiavelli un motivo c'è, l'idea proprio di fare in modo che studiosi come Carlo Sacino possano dare, mettere a disposizione le proprie competenze, i propri suggerimenti ai decisori politici e a quello che ci ha animato. Abbiamo scelto la figura di Machiavelli perché è quello che rappresenta proprio il consigliere del principe, che cosa ben diversa, sempre ricordiamocelo, dall'intellettuale organico di altre culture politiche, perché il rapporto era diverso, lì era il partito che suggeriva all'intellettuale cosa dire. Il nostro obiettivo è fare esattamente l'inverso e speriamo che stiamo lavorando bene in questa direzione. do ora la parola a Fabio Amendolaro, che è un giornalista della verità, un giornalista investigativo, autore di molte inchieste interessanti, che vi invito a leggere perché sono pubblicate sia sulla verità che anche sul panorama, se non sbaglio, alcune delle quali anche dedicate all'ONG. Prego. Buonasera a tutti, grazie, grazie per l'invito e soprattutto grazie per il lavoro che ci hai offerto. Io sono qui più che altro per testimoniare che è un settore difficile da raccontare, quindi quando ho visto il tuo report, conoscendo le difficoltà di trasparenza, ho capito subito che dietro c'era un lavoro enorme, ogni tanto mi imbatto anche io nelle legislazioni internazionali per capire effettivamente, per verificare a volte le notizie che in modo anche abbastanza semplice cercano di dirottarci e quindi il giornalista investigativo non si può accontentare anche di quello che dicono le fonti ufficiali, anzi di solito facciamo delle inchieste giornalistiche anche sulle inchieste giudiziarie, quindi non ci siamo accontentati di quello che ci ha raccontato l'indagine di Trapani o l'indagine sulla Diciotti. Facciamo i peli alle pulci anche agli investigatori, quindi spesso facendo le pulci agli investigatori mi sono trovato negli atti giudiziari questioni di diritto che non conoscevo e non immaginavo, davvero intricate e complicate e quindi il lavoro che ci viene offerto stasera è davvero un lavoro prestigioso. Poi sono qui per ringraziare il centro studi perché questo è un pezzo di un racconto che è difficile da fare, cioè fino a un anno fa non c'era un dibattito sull'ONG, noi quasi veramente cinque, sei cronisti in tutta Italia raccontavamo in solitudine di queste vicende, avevamo messo nel mirino le prime ONG quando avevamo scoperto ad esempio che Gentiloni, il governo Gentiloni e poi il governo Renzi ne avevano una in grande simpatia, Save the Children e una buona fetta dei finanziamenti per le ONG arrivava a Save the Children. Chiaramente in quell'occasione abbiamo detto vabbè vediamo di capire qualcosa in più e però quando abbiamo toccato determinate questioni si è mosso quel cordone forte che difende, ideologico, che difende ancora oggi alcuni sistemi quando si toccano determinati temi e non è complottismo, è sotto gli occhi di tutti. Se si parla di Mimmo Lucano, io sono stato uno dei primi a dire Mimmo Lucano non ce la racconta giusta quando ancora non c'era l'inchiesta giudiziaria, però quante me ne sono prese dietro, mi facevano le trasmissioni televisive contro in Calabria, ogni tanto mi chiedevano se volessi replicare a delle accuse che mi facevano Mimmo Lucano e company sulle tv calabresi. Ma c'è un cordone giornalistico di Stampa Amica che impedisce di raccontare certe storie. Quindi se si tocca a Mimmo Lucano che è il re dell'accoglienza si muove questo cordone, se si toccano le ONG che sono un pezzo di questa storia, sono solo un pezzo di questa storia perché sono i taxi che ci portano qui i migranti scelti senza scelta, cioè li prendono nel mucchio con la falce e li trasportano nel nostro paese. Quindi ONG, Mimmo Lucano e poi ci sono le cooperative. Se si toccano le cooperative accade la stessa cosa, ti cominciano a minacciare, querele, eccitazioni. Per fortuna ci arrotondiamo bene poi ogni tanto con le liti temerarie, quindi non sono tra quei cronisti che si piangono addosso, anzi quando mi arriva una citazione so che la notizia è ben verificata, non faccio chiaramente lo spavaldo, però poi in udienza, le udienze sono interessanti anche per quello, le udienze per diffamazione a mezzo stampa, perché a volte riesci ad andare un tantino oltre nella tua inchiesta giornalistica, perché magari al giornalista non rispondono, però in aula al tuo avvocato devono rispondere, quindi a volte, magari dopo un bel po' di tempo, però riesci a fare anche un passo in avanti. Però raccontare di queste vicende in Italia era difficile fino ad avantiieri, quindi benvenga che si muovano le istituzioni, è importante anche il luogo dove siamo oggi, è importante la presenza anche di un esponente del governo, di uno dei partiti di governo, perché rende ancora più autorevole questo tema e assolutamente è un tema di cui si deve parlare. Sarò veramente breve, mi avvio anzi alle conclusioni, ho sentito parlare e citare più volte Soros, ma non è soltanto Soros, non è essere complottisti, lo ripeto, io mi sono appassionato a queste vicende perché un bel po' di anni fa ho lavorato su un'inchiesta che riguardava i depistaggi, solo i depistaggi del caso di Ilaria Alpi, quindi ho raccontato in un libro i depistaggi di Ilaria Alpi, su Ilaria Alpi e lì mi sono imbattuto in alcuni documenti che erano stati desecretati in un dossierone dei nostri servizi segreti del SISD all'epoca, che raccoglieva negli anni 90 e monitorava negli anni 90 e segnalava negli anni 90 una anomalia nelle presenze di alcuni paesi esteri e si ipotizzava che ci fosse una sorta di invasione perché questi guru, questi imam che arrivavano in Italia, poi abbiamo avuto anche degli italiani fuoriusciti dai vertici delle forze dell'ordine che hanno aderito alla cultura islamica e l'hanno propagandata con dei centri studi che erano sparsi un po' in Italia e quindi facevano bene i nostri servizi, benché tacciati sulla stampa di spiarli, in realtà monitoravano e facevano il loro dovere. Quindi in quegli atti ho trovato anche degli analisti che si preoccupavano e ci dicevano ma qui è probabile che ci sia un tentativo di invadere il nostro paese in modo pacifico e poi però una volta che siamo pieni di questa gente, che questa gente è tollerata e magari anche ben vista perché ha le associazioni culturali, che cosa succede se buttano la maschera e diventano qualcos'altro? Ho trovato delle conferme a quello che immaginavano i nostri analisti anche nel pensiero di analisti esteri, soprattutto inglesi e ho capito che era qualcosa che non dovevamo sottovalutare e quindi anche noi giornalisti dovevamo stare attenti a quello che arrivava nel nostro paese. Quando ci parlano dell'interesse pubblico è concludo davvero. La prima contestazione che ci fanno è va bene ma se non prendono soldi pubblici queste ONG a voi cosa ve ne importa? Non potete andare a controllare per sapere nei bilanci fanno quello che vogliono, fanno quello che gli pare. A noi giornalisti consegnano un semplice report sociale, una specie di bilancio sociale dove ci raccontano veramente quello che vogliono. Quando prendono soldi pubblici invece sui soldi pubblici sono tenuti a dirci che cosa ne fanno. Però che cosa accade se, come diceva l'onorevole ed è un tema importante del report, che cosa accade se i finanziamenti arrivano dall'estero e quindi Soros, ma non è solo Soros, io ho visto personalmente perché l'ho raccontata questa storia, cambiare atteggiamento ad esempio alla regione Basilicata. L'ex presidente della regione, il governatore Marcello Pittella, fratello di Gianni Pittella, ex vicepresidente del Parlamento europeo, presidente della regione Basilicata, incontra a un certo punto un personaggio che per me era sconosciuto, tale Sawiris, un egiziano miliardario, plurimiliardario, un personaggio di quelli alla Soros, incontra questa persona, dopo pochi giorni comincia a fare dei proclami e dice gli immigrati tutti da noi, tutti in Basilicata, spopolamento, stop, ripopoliamo la Basilicata, era una teoria alla Mimmo Lucano, ma sono arrivati dei finanziamenti da questo Sawiris, non lo sapremo mai, quali ONG operano attorno, non lo sapremo mai, scopriamo poi, anche questo raccontato è stato fortissimo, è uscito poi anche sui TG nazionali, di un murales finanziato dalla regione Basilicata con, immaginate quei paesi dell'est di qualche anno fa, di matrice sovietica, un grande murales nel paese di origine del governatore con lui che stringe la mano a questo Sawiris, che per molti cittadini lucani è un personaggio sconosciuto. Quindi che cosa si muove attorno a queste ONG, a questi meccanismi dell'accoglienza? È qualcosa di cui dobbiamo interessarci, l'interesse pubblico è, senza ombra di dubbio c'è, quindi dobbiamo occuparci, non solo possiamo, ma dobbiamo occuparci, allora benvengano report come questi, soprattutto se vanno a incidere nei meccanismi della politica, grazie, grazie al centro Machiavelli e grazie a tutti voi. Grazie Fabio, una piccola riflessione poi sul complottismo di cui si è parlato, una categoria che viene usata anche con molta disinvoltura e direi anche con molta ipocrisia, perché alla fine si è complottista se si parla di Soros o se si dice che certi tentativi di processare certi ministri non sono proprio fondatissimi, aperta parentesi nel nostro sito trovate anche un report sul caso 18 in analisi giuridica, mentre gli stessi poi non hanno problemi a paventare i complotti su casi di sindaci, ben noti sindaci, anche di Firenze, ex sindaci di Firenze, ecco, non andiamo nel dettaglio, però se si vuole utilizzare questa categoria di complottismo quanto meno bisogna essere coerenti, cioè se si dice che i complotti non esistono, tutta la luce del sole ma non si può tacciare qualcuno nel complottismo e poi immaginarsi che esistano le toghe giallo-verdi che processano i nemici del governo che francamente non mi pare che sia una situazione realistica. Però ritorniamo sulla strada di quello che dovevamo trattare, Carlo Sacino adesso ci spiegherà un po' più in dettaglio i contenuti del suo report, anche le proposte che fa a livello appunto di policy e commenterà magari anche gli interventi che ci sono stati finora. Innanzitutto ringrazio dei complimenti e ricambio con un audente sfortuna iubat, la fortuna aiuta gli audaci, studiosi audaci, giornalisti audaci, onorevoli audaci. Detto questo passo al mio report, parliamo di ONG, parliamo di ONG per due motivi, un motivo generico ed è le dimensioni del terzo settore, il settore delle non-profit che è diventato di dimensioni rilevanti, come aveva già detto l'onorevole, 60 miliardi di business annuo, 680 mila addetti, 4,7 milioni di volontari. La questione della trasparenza del terzo settore è di interesse anche della Corte dei Conti Europea che nel suo rapporto del dicembre 2018, quindi recentissimo, ha lamentato una scarsa trasparenza per tutte quelle organizzazioni che si occupano di rifugiati, non a caso, e ricevono finanziamenti dalla Commissione Europea. E qui passo alla questione particolare, che è la questione appunto delle ONG nel Mediterraneo, questione che dura dal 2015 e che per tutta una serie di motivi è diventata controversa. Controversa perché abbiamo avuto organizzazioni che autonomamente gestiscono la politica migratoria di uno Stato sovrano, con quello che inizialmente poteva essere un tacito assenso dei governi in carica, per il fatto che queste organizzazioni spesso battono bandiere di paradisi fiscali e infine, come ha rilevato Frontex, i trafficanti di persone nell'entroterra libico coordinano le proprie azioni in base alla presenza di queste organizzazioni in mare. Le stesse organizzazioni, secondo Frontex, insegnano ai migranti come mentire a Frontex stesso per ottenere lo Stato di idoneità come rifugiato. Il mio compito è stato quello, innanzitutto, di verificare la legislazione italiana a riguardo, poi verificare la legislazione in quei paesi che hanno avuto problemi simili e fare un paragone e poi fare delle raccomandazioni. Parto quindi con la legislazione italiana, legge 460 del 97, che stabilisce che tutte le organizzazioni devono registrarsi presso il Ministro delle Finanze in base alle proprie finalità, presentare un bilancio annuo per ottenere delle agevolazioni fiscali. Questa è una legislazione di base che è presente in tutto il mondo occidentale. Di recente, come ho già detto, il legislatore, a causa delle dimensioni del terzo settore, ha iniziato a intervenire a livello di trasparenza con la legge 124 del 2017, che stabilisce che le organizzazioni, le ONLUS, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, che ricevono finanziamenti dalla pubblica amministrazione per cifre superiori ai 10.000 euro, devono pubblicare online i propri bilanci dal 2019, quindi da quest'anno. Infine, con il decreto anticorruzione del novembre 2018, le fondazioni, quindi un segmento del terzo settore, sono effettivamente equiparate a partiti politici, quindi via un massimo di donazione di 100.000 euro, singola, singola donazione, e un obbligo di conto mensile per donazioni superiori ai 500 euro. Inoltre, la proibizione di accettare, di ricevere finanziamenti da enti pubblici o privati stranieri, che è una novità notevole per il contesto italiano, fino al 2018 i partiti politici potevano ricevere finanziamenti da organizzazioni straniere. Questa novità è in realtà presente in quasi tutto il mondo centrale, a partire dalla Spagna, dalla Francia e dagli Stati Uniti. Gli Stati Uniti sono proprio il primo paese che io uso come termine di paragone in quanto a legislazione. Come ho già detto, vi è una legislazione di base che include un obbligo di registrazione e che consente di accedere ad agevolazioni fiscali. Queste agevolazioni fiscali negli Stati Uniti sono limitate per quelle organizzazioni a scopo politico. Inoltre, e questa è la grande novità negli Stati Uniti, tutte le organizzazioni che sono finanziate da stranieri sono soggette al FARA, Foreign Agent Registration Act, cioè sono a tutti gli effetti considerati lobbisti per conto di stranieri. Gli Stati Uniti si riservano, cioè obbligano queste organizzazioni a rivelare, innanzitutto che è il finanziatore, quali scopi intende ottenere, con quali attività, con quali finanziamenti e quali sono le relazioni politiche che ha l'organizzazione con i membri del congresso americano. Perché è importante questa legge? Perché diversi paesi la stanno copiando in una forma o nell'altra. La prima è stata l'India nel 2010, con il Foreign Contribution Act, che è sostanzialmente identico, con una eccezione particolare. Lo Stato indiano si riserva di proibire l'accettazione e l'utilizzo di contribuzioni straniere per qualsiasi attività in contrasto con l'interesse nazionale. Premetto subito, una norma del genere in Italia sarebbe probabilmente anticostituzionale, quindi non è copiabile. Ho ritenuto comunque interessante a citarla. Il secondo paese che ha copiato il far americano è Israele, con l'atto di trasparenza del 2016. Le differenze sono sostanzialmente due. Innanzitutto non va a colpire tutte le organizzazioni che ricevono finanziamenti da stranieri, ma solo quelle con il 50% o più, quindi via una soglia minima. La seconda differenza è che tutte queste organizzazioni colpite dall'atto di trasparenza sono obbligate a presentarsi nelle proprie comunicazioni mediate come appunto lobbisti per conto di stranieri. Perché Israele ha fatto questa legge? Perché vi è una similitudine con il caso italiano. In Israele ci sono 27 organizzazioni finanziate dal governo straniero, tutte vicine a un movimenti di sinistra o estrema sinistra, tutte a favore della causa palestinese e quindi il governo israeliano ha voluto venirci chiaro. Non ci sono limiti all'azione di queste organizzazioni, vi sono obblighi di trasparenza. La similitudine con il caso italiano è che tutte le ONG che lavorano nel Mediterraneo sono anch'esse vicine a movimenti di sinistra o estrema sinistra, come è ammesso tra l'altro dall'ex sottosegretario Mario Giro, si tratta di attivisti no border, cioè che lavorano per l'abolizione dei confini. Il terzo paese che ha copiato il far americano è l'Ungheria con la legge 56 del 2017, molto simile a quella israeliana tra l'altro, vi ha una soglia minima di 23.500 euro per essere colpiti da questa legge e anche qui vi è l'obbligo di presentarsi come agenti per conto di stranieri. L'Ungheria poi ha rincarato la dose con i pacchetti T332 e T333 che sono sulla responsabilità di quelle organizzazioni che favoriscono l'immigrazione clandestina. Il legislatore inglese ha ben chiaro quello che è successo nel Mediterraneo con l'Italia. Questi pacchetti innanzitutto identificano le organizzazioni che sponsorizzano l'ingresso o la permanenza illegale da parte di cittadini terzi in territorio inglese. Queste organizzazioni sono obbligate a notificare entro tre giorni qualsiasi sponsorizzazione di ingresso illegale inclusa la diffusione di materiale informativo. Devono notificare vantaggi personali derivanti dalla partecipazione all'associazione stessa da parte di tutti i membri. Sono suggesti a una tassazione del 25% dei benefici finanziari o di proprietà ricevuti e questa somma è devoluta al Servizio Nazionale di Protezione dei Confini. Infine possono essere dissolte in caso di ripetute violazioni della stessa legge. Inoltre lo Stato ungherese si riserva la possibilità di bandire per sei mesi fino a otto chilometri dal territorio ungherese individui che promuovono l'ingresso o la permanenza illegale in territorio ungherese. Questa è una legge parecchio controversa. Ha ricevuto una condanna dal Parlamento europeo, la Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione per violazione della direttiva sui richiedenti asilo e della libertà d'associazione. Invece infine vi è l'opinione del Consiglio d'Europa e dell'OSCE, l'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione, che in realtà rivela come andrà a finire la questione sulla legge ungherese. Secondo il Consiglio d'Europa e l'OSCE a punire chi favorisce l'immigrazione illegale è perfettamente lecito. Il problema con la legge ungherese è che nel momento in cui limita la diffusione di materiale informativo, limita la libertà di stampa e inoltre manca un'eccezione in caso di emergenza umanitaria. Quindi a livello di contenuto di base la legge ungherese va bene, verranno introdotte molto probabilmente delle eccezioni. Passo quindi alle raccomandazioni per l'Italia. Innanzitutto si può ritenere positiva l'introduzione nel 2017 di obbligo di pubblicazione dei bilanci online per chi riceve finanziamenti dalla pubblica amministrazione. Io questo obbligo lo estenderei a tutte. Non vedo la necessità di fare differenza. Si potrebbe pensare ad un fara italiano ma in Italia la logistica è scarsamente regolamentata. Negli Stati Uniti invece lo è e nel momento in cui il fara americano viene sostanzialmente criticato la risposta è sempre perfettamente legale in quanto la logistica da noi è regolamentata. In Italia non lo è. Quindi in caso la logistica venisse regolamentata in Italia si potrebbe pensare altrimenti no. Dalle leggi ungherese si possono imparare due cose. Innanzitutto è legittimo responsabilizzare quelle ONG che favoriscono l'immigrazione illegale. Responsabilizzare perché? Perché queste ONG tentano a scaricare i costi dell'immigrazione sulla collettività italiana. L'accoglienza è passata da 460 milioni a 4,7 miliardi, cioè decuplicata dal 2013 al 2017. Solo il 20% risultano idonei allo status di rifugiato o di protezione sussidiaria. L'altra lezione che si può imparare dall'Ungheria è la questione dell'eccezione umanitaria che in Italia esiste già ed è giusto che ci sia ma andrebbe meglio definita. Quello che succede ora è che abbiamo delle organizzazioni che fanno interventi umanitari in acque libiche sotto l'autorità libica, poi rifiutano di consegnare i migranti all'autorità libica, rifiutano di dirigersi verso un porto più vicino e si dirigono in Italia. In questo caso l'emergenza inizia e finisce in acque territoriali o nella SAR libica. L'eccezione umanitaria non dovrebbe valere in questo caso, dovrebbe valere solo in caso di intervento in zona di ricerca e salvataggio italiano al massimo entro 8 o 10 chilometri di acque internazionali. Grazie. Grazie Carlo, ricordo chiunque volesse approfondire il tema, il suo report si può scaricare liberamente dal nostro sito, mi invito a farla, leggerlo, diffonderlo come sempre. Allora, cosa che non capita spesso, abbiamo una buona quantità di tempo per interventi al pubblico e domande, quindi vi invito a farvi avanti. Di solito dobbiamo sempre tagliare perché arriviamo all'ultima minuta, spero che oggi c'è tempo. Intanto vi comunico anche che in aggiunta a questa serie di dossier Machiavelli sta per essere lanciata una nuova iniziativa in collaborazione con l'editore Giubilei Regnani, ci sarà una collana proprio tra l'editore e il centro studio di Machiavelli, quindi di libri dove approfondiremo un po' di questioni, la prima uscita riguarderà l'immigrazione, un libro che parlerà appunto degli aspetti, dei vari aspetti dell'immigrazione e soprattutto dell'immigrazione di massa, demografici, economici, sociali, di sicurezza, culturali. Il libro vi consiglio non solo perché l'ho scritto io, ma spero anche perché sia effettivamente valido, ma poi seguiranno molte altre uscite e comunque riceverete l'invito se siete iscritti alla nostra newsletter, se non lo siete fatelo, ricevete l'invito per tutte le presentazioni che ci saranno. A qualcuno è venuto in mente? Prego. Grazie. Direi che ci sono sostanzialmente due tipi di organizzazione. Vi è l'organizzazione grande che può essere Save the Children, visto che è stata citata, che normalmente ha già delle sue navi e le adatta al caso. E poi vi è l'organizzazione di attivisti no border, che sono queste piccole, come quella che è della controversia recente, la Sea Watch, come la Jugend Rettet, la CI. Tutte queste organizzazioni sono nate come ONG solo di recente, in realtà sono attivisti no border, che vengono dalla Germania, dall'Olanda. Hanno semplicemente messo in piedi questa organizzazione e hanno preso il mare, mettendo in piedi un sito tramite il quale ricevono donazioni, non vi è alcuna trasparenza a riguardo. Ho guardato, non si sa nulla, non si può vedere nulla, ho provato a richiedere, non ti rispondono. Se posso proprio 30 secondi. Io mi associo e ci sono centinaia di mail che ho mandato e che sono rimaste inascoltate. Sui fondi non ti rispondono. Ti rispondono al massimo su quello che loro vogliono rendere pubblico. Quindi se hanno, che ne so, un testimonial che li sostiene, ad esempio Sea Watch ne ha diversi tra musicisti e anche artisti tedeschi, allora in quel caso ti dicono Tizio e Caio ci aiuta anche per tot, oppure anche soltanto per l'immagine. Ma sulle donazioni sono blindati. Quindi è davvero un campo ostico. Molte poi di quelle piccole raccontano, nascono tutte con delle storie veramente fantasiose. Ad esempio Sea Watch comincia con questo commerciante tedesco che, toccato dalla vista di una nave, di una barca che stava affondando nel Mediterraneo, decide con un amico ingegnere di investire, di comprare un peschereccio di 50 anni fa. Poi da quel peschereccio di 50 anni fa, non si sa come, nel giro di un anno hanno grandi navi, droni che neanche i nostri militari, elicotteri per il soccorso e la ricerca. Quindi quanti soldi arrivano a queste ONG nel giro di davvero pochissimo tempo. Immaginare che ci sia il singolo che dona i due euro è davvero ridicolo. Sono Andrea Perboni Alquati. A me piacciono i numeri. Sono rimasto sconvolto da quantità di interessi che ci sono e di persone coinvolte. Però vorrei, se è possibile, avere una suddivisione di questi addetti e di questi giro d'affari, diciamo in ONG che vanno verso il problema dell'immigrazione, soccorso mare e coso e altre onlus che si occupano di un'infinità di altri problemi. Perché io non so in che percentuale in questi, per esempio, 4 milioni di volontari e altre cose sono dietro a un tipo di onlus e quanti dietro all'assistenza che ne so ai bambini ritardati? Non ho qua il dato che lei mi richiede, sfortunatamente. Visto che l'onorevole ha tirato in ballo George Soros. La Open Society Foundation in Italia finanzia 60 organizzazioni che si occupano tutte di immigrazione. Questa è solo l'Open Society Foundation che è la più attiva, tra l'altro. E tra l'altro queste sono le formazioni del loro sito e sono facilmente disponibili. si può ipotizzare che il numero sia sostanzialmente magari doppio, triplo, se non è addirittura. Includendo, ad esempio, la più attiva in Italia è la comunità di Sant'Egidio che però non ha legami con l'Open Society. Dobbiamo capire che ci sono degli interessi enormi attorno all'accoglienza e che quindi dimostra che è una fetta grossa della torta delle associazioni che si occupano poi anche di altro tipo di assistenza è facilmente intuibile. Se pensiamo che, ad esempio, la cooperativa che è vicino alla Chiesa Cattolica, Auxilium, che qui a Roma gestisce uno dei centri più importanti di accoglienza, gestiva anche quello che è stato smantellato, tant'è che poi sono peanti addosso anche per i poveri lavoratori che non avevano dove ricollocare, che fattura veramente cifre da capogiro e che lo dichiara che è quello, pur essendo solo uno dei settori di cui si occupa, però è una grossa fetta. Se immaginate che proprio Auxilium è stato il maggior sponsor della festa di avvenire che quest'anno si è svolta a Matera, perché Matera 2019 era proprio il sito adeguato, e se pensiamo ancora che essendo il principale sponsor probabilmente lo ha fatto, proprio perché nel programma c'erano degli interventi che riguardavano l'accoglienza. Buona fetta del programma della festa di avvenire era sull'accoglienza. Quindi capire che ci sono effettivamente degli interessi economici enormi insomma non è difficile. Poi ha fatto benissimo a notare che il panorama del terzo settore è molto variegato, quindi non vorrei venisse interpretato come un attacco a un settore che al contrario è composto in massima parte, praticamente la totalità di realtà positive sotto tutti i punti di vista, nel sociale e anche per quella che è l'attività economica che fanno, ma nemmeno un attacco verso le ONG che sono impegnate, ad esempio i salvataggi in mare. Nessuno, penso, vorrebbe mai criminalizzare i salvataggi in mare. Quel problema si pone dal punto di vista politico nel momento in cui il salvataggio, qualcosa che viene presentato come salvataggio, diventa un pretesto invece per aiutare l'immigrazione clandestina. Quindi credo che lì sia il nucleo del problema politico, non assolutamente sull'attività del terzo settore e nemmeno su quello di un dovere legale, è un dovere morale che è salvare le persone, ovviamente se sono in difficoltà e se stanno annegando. Grazie Danilo. Giuseppe Masala, medico in cooperazione internazionale dello sviluppo per 30 anni. Mi avete dato un paio di spunti, il signore qui a fianco e l'ottimo Carlo Sacino che come al solito ha fatto un lavoro egregio. Ho buttato giù un po' di riflessioni, ma mi avete dato degli spunti in questa discussione. Intanto mi associo a quello che è stato appena detto, non buttiamo il bambino con l'acqua sporca. Considerate che i bambini sono tanti, l'acqua sporca è veramente poca, ma sporchissima. Le ONG, il loro livello, nella mia esperienza trentennale, non ho mai lavorato dentro le ONG, ma ho lavorato moltissimo con le ONG, come finanziatore, come governo italiano, come Unione Europea, Nazioni Unite, eccetera. Il loro livello di serietà, efficienza, efficacia e trasparenza è una variabile dipendente da quanto utilizzano fondi pubblici e hanno programmi chiari, pubblicati e accettati. In genere le ONG che lavorano con i governi, qualunque, non solo quello italiano, o con la Commissione Europea, devono rendere conto di ogni penna che comprano, di ogni foglio di carta e di ogni bolletta a fattura di servizi. E quindi è difficile trovare devianze. Ci sono anche, ma è molto difficile. Laddove invece i finanziamenti sono oscuri, ovviamente c'è di tutto. Ma di tutto non potete immaginare cosa si trova. Dichiarano programmi altrui, dichiarano come propri programmi altrui, fanno bei report su carta patinata e colorata con le fotografie di cose fatte da altri che si attribuiscono. Vabbè, è tutto verificabile, si può trovare. Quindi meno controlli e più strani affari sotto. L'altro aspetto è la recente istituzione. Mi pare che Carlo diceva appunto di ONG, nata l'altro ieri, c'è Ebola e assieme ai grandi, ma è senza frontiere, ovviamente, se vi deciltero, eccetera, arrivano una miriade di parvenus che nascono dal nulla. Sono truffe. Sono semplicemente truffe. Nel campo del cosiddetto salvataggio, poi mi lasciate fare un commento anche su questo, anzi una raccomandazione, nel campo del cosiddetto salvataggio, MOAS, ve la ricordate, un paio di anni fa, erano dei commercianti d'armi che a un certo punto si sono riconvertiti, avendo mezzi tecnologici, eccetera, appena hanno sentito puzza di bruciato e puzza di investigazioni da parte di Minniti, sono scappati in Birmania, ma non perché non volessero rispettare il codice, perché temevano delle indagini che avrebbero sicuramente ricevuto, come l'ha ricevuto Huguen Rettet e gli altri. Emergency, tanto per fare un esempio e per non far nomi. Emergency è diventata famosa, si è allargata fino a un budget, credo superiore ai 50 milioni di euro l'anno, con fondi privati, raccolti da Maurizio Costanzo e queste cose qua, e finché ha lavorato in quel modo, ha fatto quello che ha voluto, senza un programma, non solo non rispettando, vendendosi come cooperazione, non facendo cooperazione, seguendo un'agenda propria, li ho visti in Afghanistan, li ho visti in Sudan, l'ONG è un giocattolo in mano a quel signore, e che fa quello che lui vuole. Se lui chiude un ospedale dall'afghanese, se ne va, lo fa per i suoi propri scopi, e così lo riapre, ricattando governi. È allucinante quello che riescono a fare, perché riescono a infilare il grimaldello nelle pieghe di paesi che ovviamente hanno poca capacità di smascherarli. Un'ultima cosa, adesso mi levo la casacca di cooperante, mi metto quella di diportista. Adoro il mare, e ho l'abilitazione alla condotta di imbarcazioni da diporto, senza limiti, vele e motore. Conosco bene tutta la regolamentazione del soccorso in mare, ma il mio parere non vale nulla, vale quello invece dei professionisti, di ammiragli. Smettiamola. Per favore di parlare di naufragio, di salvataggio. Non c'è né naufragio né salvataggio. Il naufragio è un evento occasionale, inatteso, una disgrazia, un uomo a mare. Quindi sono degli appuntamenti proprio. Sono truffe organizzate. Tutti questi natanti, a partire dai vecchi barconi e a finire dai gommoni cinesi, non avrebbero l'autorizzazione ad allontanarsi due metri dal litorale di Ostia. quindi già lì c'è ovviamente un crimine, però il crimine lì lo commettono gli scafisti. Chi dà seguito a questo fa un falso salvataggio, è un naufragio organizzato, è una truffa. La Convenzione di Hamburgo, che regolamenta il soccorso in mare, non era pensata per questo. Quando si parla di place of safety o port of safety, non c'ha niente a che fare con questo. il place of safety, ovviamente questi gommoni si sgonfiano, il place of safety diventa la nave, l'A18 era un classico place of safety, quindi è ridicola anche questa, tutta questa storia del sequestro di persona. Stavano già in un place of safety, non bisognava assegnarle, anche perché il ponte dell'A18 è già territorio italiano, visto che batte bandiera. non entro nelle questioni giuridiche, ma raccomanderei, visto che siamo like-minded, lasciatemi credere, che si combatta anche questo discorso dei naufragi, dei salvati, non sono né naufraghi, né salvati, sono truffatori organizzati, loro stessi, la stragrande maggioranza, io adoro l'Africa, io adoro gli africani, ho un sacco di amici africani, questa è la feccia, sono delinquenti fuoriusciti di galera o espulsi, la stragrande maggioranza, poi c'è l'eccezione, e a questa truffa, in qualche maniera, con questo pensiero comune, ci stiamo adattando, già continuiamo a parlare in tutti i giornali, di migranti, non lo sono, di naufragi, non c'è nessun naufragio, e di salvataggio. Grazie. Altri interventi? Allora, vissi, ah, prego. Buonasera, sono Sangeet Maddumagi, uno studente della sapienza in scienze politiche, e ho letto questo report e l'ho trovato veramente molto interessante, quindi mi complimento. Leggendolo ho trovato il DDL anticorruzione, che è, diciamo, italiano, e quindi considera queste fondazioni come dei partiti, c'è scritto, e quindi i finanziamenti dall'estero per questi partiti sono considerati illegali. E lo stesso succede in Francia, Spagna e Stati Uniti, ovvero gli investimenti per i partiti sono considerati illegali, ma le onlus e le fondazioni in questi paesi sono considerati altrettanto partiti o? Innanzitutto chiarifichiamo, le fondazioni sono un segmento del settore non pro, delle onlus. Sì. Possono essere finanziate da stranieri in altri paesi, allora negli Stati Uniti no, in Spagna e Francia sì, in Germania mi pare di sì, in Germania c'è anche i partiti possono essere finanziati da stranieri entro una certa soglia. Gran Bretagna non mi ricordo, mi dispiace. Grazie. Potevo rispondere a mi sfugge il nome sfortunatamente e lo ringrazio anche per la testimonianza che è molto precisa e anche vorrei aggiungere la mia critica molto precisa io non voglio criminalizzare certamente il terzo settore o neanche il salvataggio in mare. Quello che critico è un atteggiamento ben preciso in cui le ONG vogliono fare il salvataggio in mare a me va benissimo lo fanno in Sarlibica li riportano in Libia la critica è in Libia i migranti vengono trattati male ci sono violazioni di diritti umani va bene nulla proibisce le ONG di rimanere in Libia a far sì che i migranti non vengano discriminati non lo vogliono fare li vogliono portare in Europa a me questo non va bene questa è effettivamente una volontà di portare i migranti in Italia questo è favoreggiamento dell'immigrazione questo è quello che io critico una critica molto precisa che non è una critica al salvataggio grazie e grazie anche per la testimonianza aggiungerei anche una cosa adesso senza entrare nel dettaglio di ciò che accade in Libia perché sicuramente ci sono delle realtà in ciò che è stato raccontato nella stampa poi abbiamo anche seguito casi in cui alcune foto venivano equivocate utilizzate foto di altri eventi di altri paesi presentandovi come quelli in Libia ma è anche vero che se e non abbiamo ragione di dubitarlo la Libia non è esattamente un paese in cui chi immigra clandestinamente e poi viene trattato nel migliore dei casi riuscire come è stato fatto effettivamente dalla politica italiana in qualche modo a svuotare questa rotta significa anche togliere l'incentivo a queste persone per andare proprio in Libia e andare magari verso altri paesi che sono sicuramente più rispettosi dei loro diritti quindi da questo punto di vista la critica umanitaria chiamiamola così anche a sua volta deve farle perché si deve sempre risalire a monte delle questioni quindi non va bene gli sbarchi dobbiamo risalire in Libia risaliamo anche oltre risaliamo da quelli che sono i paesi di partenza e chiediamoci dove è meglio che vadano che siano indirizzati questi flussi migratori non solo ma avviene il salvataggio tra virgolette chiamiamolo salvataggio magari effettivamente non li si vuole riportare in Libia però il primo paese prossimo è la Tunisia e poi c'è Malta e perché non Malta? proprio per forza tutti in Italia c'è da dire per competenza di formazione da questo punto di vista ed è una sfida che tocca anche al nostro governo che non sempre altri paesi mediterranei sono stati pienamente collaborativi da questo punto di vista sicché anche in casi recenti molto contestati poi si è visto che effettivamente queste energie avevano delle giustificazioni cioè il tentativo anche di dirigersi da altre parti era stato frustrato dalla mancanza di collaborazione di questi paesi quindi anche un'azione politica energica per fare in modo che i paesi che spesso ricevono anche degli aiuti dall'Italia o da Unione Europea aiuti anche consistenti ecco ogni tanto dovrebbero anche mostrare la loro riconoscenza un ottimo modo sarebbe quello di fare il proprio dovere nell'area SAR che hanno individuato visto che sono loro stessi che hanno richiesto di avere questa area SAR è giusto anche che poi compiano quello che devono fare a livello di ricerca e di soccorso sul caso di Malta poi si è parlato tantissimo se posso spendere una parola su Malta visto che sono stato il comandante della missione militare italiana dal 2006 al 2009 a Malta sono il generale Ormetti allora Malta si è autodeterminata una zona SAR che è immensa che non può gestire anzi va a cozzare anche con da un lato anche con le acque territoriali italiane loro giustamente lo hanno fatto e nessuno ancora pone dei limiti nell'intento di poter sfruttare le risorse del sottosuolo quello che verrà trovato se un domani si trova qualcosa è nostro però non sono in grado di poter gestire questa quest'area SAR però è anche da dire che perché io mi ci sono mi ci sono trovato che Malta ha 420.000 abitanti un quartiere di Roma delle volte è anche più grande con una densità di 1800 abitanti su chilometro quadrato cioè quindi io mi accorgevo stando là proprio le difficoltà che hanno nel prendere questi immigrati nel soccorrere questa gente faccio l'esempio del 2008 nei primi due mesi del 2008 quando scoppiò pure tutto loro avevano preso 2200 immigrati non sapevano non avevano più nemmeno i soldi il comandante Maltese mi diceva non abbiamo nemmeno più i soldi per dargli da mangiare ma come facciamo noi pre è come se qui da noi venissero 2 milioni perché se fa il rapporto 2200 a 420.000 quanti ne devono venire in Italia ecco quindi capisco anche però loro dal primo ministro dal presidente dal comandante loro avevano chiaro il problema e dicevano ma noi con l'Italia dovremmo parlare una lingua unica nel far capire che il problema europeo è di tutti non è solo di Malta e dell'Italia cioè loro molte volte si vedevano costretti a rifornire questi barconi di notte in mezzo al mare e degli andati a Lampedusa pure questo avveniva però se noi se posso se noi analizziamo il fenomeno sicuramente io non conosco adesso bene la situazione però sicuramente Malta avrà un sostegno europeo per prendere la sua fetta di migranti ci sono dei paesi che sono molto più sensibili e dove funziona lo stop all'immigrazione ad esempio la Turchia vogliamo ricordare quello che fa e che ha fatto per evitare l'invasione dei siriani li ha accolti io sto diciamo vado lì quasi due volte all'anno ormai da dieci anni e l'ho vista la massiccia presenza di siriani e spesso vengono accolti anche meglio di come abbiamo accolto noi e loro lì che li hanno messi nei gulag che abbiamo creato perché a ben vedere se qualcuno di voi ha avuto la possibilità entrare in un centro cas è quasi paragonabile ad un ad un carcere filospinato sorveglianza e poi stanno ammassati davvero in condizioni quindi non siamo neanche bravi ad accoglierli in più ci hanno speculato e io di indagini su chi ha approfittato dell'accoglienza ne ho raccontate veramente anzi mi sono quasi stufato perché ce n'è almeno una settimana da due anni a questa parte quindi non siamo stati bravi neanche ad accoglierli noi i turchi invece che hanno hanno ricevuto dall'Unione Europea una bella fetta di investimenti invece ci hanno dato dimostrazione di aver di aver fatto qualcosa in più di noi perché Malta non può fare la stessa cosa la Turchia tra l'altro ha accolto con molto entusiasmo questi flussi migratori sia perché da un lato ha permesso di monetizzare poi dall'altro come sapete il presidente Erdogan si è preoccupato di dare anche un canale agevolato all'acquisizione della cittadinanza perché gli sono anche tornati utili da un punto di vista elettorale possa che serva ancora per lui avere maggiore forza elettorale ma questo però ci pone anche ci fa andare anche sulla questione dell'opportunità che i flussi migratori generati da emergenze umanitarie possano dirigere e essere accolti da paesi prossimi laddove l'emergenza accade che è un'idea che è stata espressa da personaggi autorevoli come Paul Collier che è un economista britannico di fama il quale ha notato che l'accoglienza situata in prossimità del paese di origine permette di abbattere i costi che poi possono essere sostenuti sempre dai paesi ricchi ma con notevoli economie rispetto al sostenerlo in casa perché ovviamente un rifugiato in un paese africano costa meno che un rifugiato in Italia quindi permettendo di alzare anche quello standard che si diceva del modo in cui vengono accolti e trattati oltre poi a evitare molte delle ricadute sociali e difficoltà di integrazione che invece si verificano quando il rifugiato viene posto in zone molto distanti anche il fatto che il rifugiato l'aspirante rifugiato l'aspirante richiedente asilo debba percorrere lunghi tratti di terra attraversando paesi che di per sé sarebbero già sicuri perché si è già levato da quella che è l'emergenza humanitario e sicuramente un'anomalia e trasforma quella persona di fatto in un migrante economico e quindi se non entra legalmente è un clandestino negli Stati Uniti se vuoi richiedere lo status di rifugiato deve andare nel paese più vicino e ti presenti alle autorità consolari chiedendo da lì facendo l'applicazione per essere accolto come rifugiato negli Stati Uniti per esempio sì poi sicuramente tanti altri paesi io citavo gli Stati Uniti perché sono non sospettabili ecco di essere un paese incivile o brutale o altro il Sudan magari un po' di più allora se non ci sono altri interventi io vi ringrazio per la presenza per il dibattito vi auguro una buona serata e vi do appuntamento al nostro prossimo incontro grazie grazie